La sua squadra ha giocato una buonissima gara, non ha rubato nulla, ha imposto l'1-1 alla Casertana e torna a casa con un risultato che le fa piacere? Sicuramente è un risultato positivo, un risultato che ci dà continuità di quello che avevamo iniziato sei settimane fa, sicuramente oggi sapevamo di andare a affrontare una squadra ben attrezzata, molto forte, una squadra di grande qualità, la prima parte della gara l'abbiamo fatta abbastanza bene, abbiamo avuto anche noi credo le nostre occasioni, soprattutto nel primo tempo con Guadalupe e Chiaria, forse l'occasione più limpide nella prima parte ce l'abbiamo avuto noi, poi ci siamo trovati sotto 1-0, mi dicevano i ragazzi è stato bravo anche il giocatore a portarsi la palla con la mano, però abbiamo avuto subito quella reazione e abbiamo messo subito la partita in parità, abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo sfruttato e quindi questa è andata un pochino scemando la prima parte della gara, la seconda parte della gara, la casertana sicuramente ha avuto un po' stesso palla superiore al nostro, noi ci siamo un pochino abbassati, però abbiamo chiuso un pochino gli spazi, abbiamo otto la profondità, allora l'unica occasione che potevano essere pericolosa è stato un qualche tiro da fuori e su palle inattive, soprattutto su calcio d'angolo, però credo che oggi la mia retroguardia si è comportata abbastanza bene. Grazie a tutti!